La terza amichevole che non è proprio il nostro direttore, una bella partita, ho giuntato positivo tra l'altro ma anche l'indiscreto gioco contro una squadra che mi è molto dotata. Sì, loro sono sicuramente una squadra dotata, hanno tre elementi, due o tre elementi, barra quattro di categoria, secondo me, superiore, insomma, mi hanno metto una bella squadra. Un bel test, ma è stato un bel test anche quello dell'altra volta. Questo, secondo me, ci avvicina ancora di più, forse al ritmo campionato, forse è un po' meno amichevole dell'altra. È stata una bella partita, abbiamo giocato bene, secondo me abbiamo giocato più da squadra che con i singoli come avevamo fatto magari un pochino prima, quindi sono molto contento della prestazione. Abbiamo visto tanti scambi lunghi durante il set, quindi molto piaceremo da vedere il pubblico, ma anche penso agli allenatori che capiscono l'attività delle due squadre. Sì, infatti a un certo punto, mi sembra nel Tarso Set, ti abbiamo chiesto di far fare un taglio, perché era uno scambio molto molto lungo e molto intenso, bellissimo. Secondo me c'è stato un bel lavoro da una parte o dall'altra, piaceremo, come dicevi tu, però insomma il livello era, secondo me, alto e bello da vedere, sì. Allora, visto che si giocava nell'aria, che poi sono temi anche in campo, quali problemi non abbiamo avuto stranamente nessuno, oggi sui free boys, sulla palla più semplice, diciamo, non riuscivamo a dare la palla vicino a rete. Noi abbiamo giocato molto bene al servizio e abbiamo costretto sempre gli avversari a giocare palla sfruttata, però non siamo stati in grado di sfruttare le stagione, guarda, loro spesso, i valentini, per esempio loro, è un modo di merito nostro, cioè noi siamo di più contatto su palla sfruttata, non parliamo delle figure, perché non arrivavano quasi mai in testa valentina e la cosa non ci ha dato parecchio fastidio. Allora, hai detto tu, un gran bel servizio l'ossera è stata una delle nostre armi più importante, come lo è ovviamente durante il vostro campionato. Sì. E io ho visto in palestra che ci lavorate, ci stanno parlando molto anche, soprattutto, su quegli elementi che normalmente non hanno un servizio, però stasera ci hai visto, penso, è insita da tutti. Sì, sì. Guarda, in particolare, mi fa molto piacere Alessia, Alessia Paù, che ha battuto bene, ha giocato una buona palla a volo, ha tratti un po' distratta, però adesso a questo livello qua, con la velocità della palla e gli scambi continui, è difficile per una ragazza di 2.000, mi sembra, mi sembra, è sempre così sul pezzo, però lei ha giocato bene, ma tutti ancora hanno giocato bene, i Carruzzi, i Verbieri, tutte, 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 i Pannelli, Nevena, tutte hanno giocato molto, molto bene, molto bene. Bene, allora adesso procediamo, andremo a rendere visita ai nostri versari del Fratte e la Santa Justina, che vi c'è in palma di prima sera, che poi l'Europa sarà più importante. Il campionato, buona giornata, speriamo. Buonasera a tutti, grazie a voi.